Fra Palermo, Agrigento ed Enna, la Commissione Antimafia in tour per la Sicilia fra un convegno sulle eco-mafie e un approfondimento sulle dinamiche di Cosa Nostra. Insieme con i presidenti delle due commissioni parlamentari, l'onorevole Rosi Bindi e Alessandro Bratti, anche il presidente della Commissione Antimafia della Sicilia, Nello Musumeci, che questa mattina è stato ospite nei nostri studi durante la trasmissione Buongiorno Anche a Te. Tanti i temi caldi, fra questi riflettori accessi sui rifiuti. La mafia va dove c'è denaro e il flusso di denaro oggi nel sistema della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti è assai copioso. In Sicilia da almeno 20 anni si vive in una condizione di emergenza e la emergenza serve soltanto ai mafiosi. A fronte di questo dato, che è il contesto nel quale si muovono i soggetti, c'è da dire che la regione siciliana ha registrato una condotta omissiva. Non appeli sulla lingua Musumeci, che intervistato dal nostro direttore Umberto Teghini, punta dunque il dito contro la regione. Non ci sarebbe stato infatti alcun controllo alle imprese, agli appalti e alla gestione delle discariche. Ha favorito il consolidarsi di discariche private al di fuori, spesso, di qualsiasi norma di legge ed ha scoraggiato la creazione di discariche pubbliche che forse non sarebbero state più efficienti di quelle private, ma certamente avrebbero consentito sul terreno della competizione un rialzo della qualità. Non riusciamo ad avere dal governo regionale un progetto capace di poter prospettare una soluzione a breve termine. Sembra dunque che non si sia fatto nulla e che la situazione sia peggiorata. Ma adesso la Commissione regionale antimafia che farà? Naturalmente anche noi abbiamo condotto un'indagine, già dal gennaio dello scorso anno. Proprio in questi giorni stiamo redigendo la relazione conclusiva, che poi sarà votata dalla Commissione, passata al Parlamento nello spazio di pochi giorni e poi inviata alle procure della Repubblica e alla Commissione nazionale antimafia. Noi vogliamo accertarci se da parte dei sindaci o degli amministratori o dei burocrati ci sia stata una sorta di connivenza.